La Chiesa Non riesco a credere che sia vero. Tutti i suoi buoni comportamenti erano solo un'illusione. Come si devono discernere le persone? Come possiamo trattare in conformità alla verità coloro che si spendono e pagano un prezzo? A marzo di quest'anno ho saputo che mia sorella si era separata dalla Chiesa. Il mio cuore ha sussultato, non credevo alle mie orecchie. Da quando credevo in Dio, mia sorella era stata il mio modello. La ammiravo e stimavo. Sentivo che credeva in Dio, perseguiva la verità e che sarebbe stata salvata. Il suo isolamento è stato per me un fulmine a ciel sereno. Com'era possibile? Era brava a predicare il Vangelo. Da quando credeva, aveva convertito molte persone ed era capace di soffrire e di pagare un prezzo. Di fronte a qualsiasi esigenza della Chiesa, era propositiva e non si tirava mai indietro. Svolgeva il suo dovere tutto il giorno, era molto attiva. Mi diceva anche spesso di pregare di più e di avvicinarmi a Dio. E ho visto che era così che lei praticava. La prima cosa che faceva al mattino era pregare Dio. Ascoltava gli inni ogni volta che aveva tempo e prima di dormire le letture della parola di Dio. Perseguiva realmente la verità, quindi come poteva essere in isolamento? La leader aveva commesso un errore. Continuavo a pensare, se perseguire con tanto entusiasmo non basta agli occhi di Dio, allora io non ho speranza di essere salvata. Dio richiede di compiere il dovere con tutto il cuore, la mente e la forza, io non l'ho fatto. Anche io verrò isolata affinché rifletta. Se ciò accadesse, come dovrei trattare la questione? Saprò continuare a credere in Dio? Più ci pensavo, più mi sentivo a disagio, come attanagliata da un senso di crisi. Pensavo continuamente che un giorno sarei stata scacciata. A quel tempo ero anche molto triste. Ero diffidente verso Dio e demotivata nel mio dovere e nelle riunioni non volevo condividere. Oh, doveva esserci un motivo per l'isolamento della sorella. La chiesa non fa torto a nessuno. Sì, ho pensato la stessa cosa. Così in seguito mi sono informata sulla sua situazione. Oh, perché dunque è stata isolata? Agiva arbitrariamente e predicava senza principi. Ad alcuni che avevano cattiva umanità e ad altri che non erano veri credenti, ma parassiti, non agiva in linea con i principi. I fratelli l'hanno richiamata e aiutata più volte, ma lei si rifiutava di accettarlo. Rispondeva, «Sono venuti, quindi perché non dovrei predicare?» A volte sembrava accettare le cose, ma non seguiva comunque i principi e faceva di testa sua con il risultato di intralciare il lavoro del Vangelo. Quando accadeva qualcosa, non imparava la lezione, discuteva e diffondeva negatività e nozioni. Una volta, in un incontro con i nuovi arrivati, ha detto «Per il mio dovere ho lasciato famiglia e lavoro e pagato un prezzo, ma ci sono ancora molte difficoltà nella mia vita. Perché Dio non mi benedice?» A queste sue parole, anche alcuni neofiti hanno sviluppato nozioni e si sono lamentati di Dio. Era una cosa grave. Sì. Non si atteneva mai ai principi e predicava sconsideratamente. Intralciava il lavoro con negatività e nozioni che ingannavano gli altri. E poiché rifiutava di pentirsi, è stata isolata. Cosa hai pensato quando l'hai saputo? Il suo comportamento mi ha sorpresa. Non potevo credere che fosse vero. Tutti i buoni comportamenti che avevo visto in lei erano solo un'illusione. Poi ho letto un passo della parola di Dio. Dio Onnipotente dice Alcuni chiedono «Dimostra forse di perseguire la verità chi si nutre delle parole di Dio e condivide sulla verità quotidianamente ed è in grado di compiere normalmente il proprio dovere? Dimostra di perseguire la verità una persona che fa tutto ciò che la casa di Dio dispone e non provoca mai disturbo o intralcio e sebbene a volte violi i principi della verità non lo fa consapevolmente o di proposito? Questa è una buona domanda. È un pensiero che si affaccia alla mente della maggior parte delle persone. Prima di tutto, bisogna capire se qualcuno sarebbe in grado di raggiungere la comprensione della verità e di ottenere la verità aderendo coerentemente a una tale pratica. Potrebbe? Che ne pensate? Una tale pratica è corretta, ma sembra più simile a un rituale religioso. È un'osservanza di regole. Non può portare alla comprensione della verità o alla sua acquisizione. Allora, che tipo di comportamento è questo in realtà? Un comportamento superficialmente buono. Mi piace questa risposta. Si tratta semplicemente di buoni comportamenti che nascono da una base di coscienza e di ragione come risultato di una buona educazione. Ma non sono altro che buoni comportamenti e sono ben lontani dal perseguimento della verità. Qual è, allora, la causa alla radice di questi comportamenti? Da cosa originano? Essi derivano dalla coscienza e dalla ragione dell'uomo, dalla sua visione morale, dai suoi sentimenti favorevoli alla fede in Dio e dal suo autocontrollo. In quanto buoni comportamenti quali sono, non hanno alcun rapporto con la verità. Sono una cosa completamente differente. Un buon comportamento non equivale a praticare la verità e chi si comporta bene non è necessariamente approvato da Dio. Un buon comportamento e la pratica della verità sono due cose diverse e non hanno alcuna relazione tra loro. La pratica della verità è un requisito da parte di Dio ed è completamente in linea con la sua volontà. Un buon comportamento deriva dalla volontà dell'uomo e convoglia gli intenti e le motivazioni dell'uomo. È qualcosa che l'uomo considera buono. Sebbene un buon comportamento non sia un'azione malvagia, è in contrasto con i principi della verità e non ha nulla a che fare con la verità. Per quanto sia buono o conforme alle nozioni e alle fantasie dell'uomo, un buon comportamento non ha alcuna relazione con la verità. Perciò nessuna quantità di buon comportamento incontrerà l'approvazione di Dio. Dal momento che un buon comportamento si definisce in questo modo, ovviamente non implica la pratica della verità. Questi comportamenti derivano dagli sforzi soggettivi dell'uomo, dalle sue nozioni, dalle sue preferenze e dalla sua volontà. Non sono manifestazioni del pentimento conseguente alla vera conoscenza di sé da parte dell'uomo dopo che questi ha accettato il giudizio e il castigo delle parole di Dio e la verità. Ne sono comportamenti o azioni della pratica della verità che sorgono nel tentativo di sottomettersi a Dio. Lo capite? Questo per dire che tali comportamenti non implicano in alcun modo un cambiamento d'indole, né ciò che deriva dal subire il giudizio e il castigo delle parole di Dio, e neppure l'autentico pentimento che deriva dall'essere venuto a conoscenza della propria indole corrotta. Non si tratta certo di una vera sottomissione dell'uomo a Dio e alla verità, né tantomeno di un cuore di riverenza e di amore per Dio. Un buon comportamento non ha nulla a che fare con queste cose. È semplicemente qualcosa che proviene dall'uomo e che l'uomo considera buono. Eppure ci sono molte persone che vedono questi buoni comportamenti come un segno di pratica della verità. Questo è un grave errore, una visione e una comprensione assurde e fallaci. Questi buoni comportamenti sono solo l'esecuzione di una cerimonia religiosa, un agire meccanicamente. Non hanno il minimo rapporto con la pratica della verità. Dio potrà anche non condannarli apertamente, ma non li approva. Di questo potete essere certi. Amen! Dalla parola di Dio ho imparato che saper fare rinunce, sacrificarsi, di pagare un prezzo e compiere delle buone azioni non significa che si stia perseguendo e praticando la verità. Tutto questo non comporta un cambiamento di indole. Sono solo pratiche basate sugli sforzi, le nozioni e le preferenze delle persone. Sì. Ho visto mia sorella leggere le parole di Dio ogni giorno, pregare spesso e pagare un prezzo, ma non ho guardato ai motivi per cui soffriva e si spendeva, né se fosse cambiata o se avesse ottenuto buoni risultati. Basandomi sulle mie fantasie, pensavo che perseguisse la verità e avesse fede. Ero così sciocca. In apparenza si impegnava nel suo dovere ogni giorno e faceva tutto ciò che la Chiesa predisponeva, ma svolgeva il suo dovere senza principi, in modo arbitrario e arrogante. I fratelli l'hanno richiamata e aiutata più volte, ma lei non lo accettava né rifletteva su se stessa, diffondeva nozioni nella Chiesa e ne intralciava la vita. Svolgeva forse il suo dovere. Compiva chiaramente il male. Sì. Prima non capivo la verità e non avevo discernimento, perciò la consideravo un modello. Ma ora la parola di Dio mi rivelava che il suo duro lavoro, le rinunce, il suo spendersi erano al massimo buoni comportamenti. Non dimostravano alcuna pratica della verità. Giusto. Credeva in Dio da molti anni, ma non praticava la verità e poteva diffondere idee negative e intralciare il lavoro. Lei non cercava né accettava minimamente la verità. Esatto. La verità ci smaschera. Per valutare se qualcuno la persegue, la chiave è il suo atteggiamento verso di essa. Se ricerchi e metta in pratica la verità quando accade qualcosa e se tema Dio o no, è la chiave per valutare e discernere le persone. Sì. Un altro passo mi ha fornito discernimento sull'indole e l'essenza di disgusto verso la verità di mia sorella. Dio dice il disgusto per la verità si manifesta non solo in sentimenti di avversione quando la si ascolta, ma anche nella riluttanza a metterla in pratica. Quando c'è da metterla in pratica, uno così si tira indietro e non ha nulla a che fare con lei. Quando condividono durante le riunioni, alcuni sembrano pieni di entusiasmo, ripetono parole di dottrina e fanno affermazioni altisonanti. Per ingannare gli altri e conquistarli, questo li fa apparire e sentire bene e continuano all'infinito. E poi ci sono quelli che sono impegnati tutto il tempo in questioni di fede. Leggono le parole di Dio, pregano, ascoltano inni, prendono appunti. Come se non potessero stare lontani da Dio nemmeno per un momento, svolgono i loro doveri tutto il giorno. Ma queste persone amano davvero la verità. Non hanno forse un indole di disgusto nei suoi confronti? In quale circostanza si può vedere il loro vero stato? Quando è il momento di praticare la verità, si sottraggono e non accettano di subire il trattamento e la potatura. È perché non capiscono ciò che ascoltano o non comprendono la verità che non l'accettano? Nell'uno o nell'altro sono governate dalla loro natura ed è un problema di indole. In cuor loro sanno che le parole di Dio sono la verità e sono positive e che metterle in pratica può portare a un cambiamento di indole e a soddisfare la volontà di Dio, ma semplicemente non le accettano e non le mettono in pratica. Questo è provare disgusto per la verità. Amen. Avevo sempre pensato che se qualcuno faceva rinunce, si sacrificava e compiva un dovere e perseguiva la verità. Ora vedevo che questa visione non era in linea con la verità. Non importa quanto una persona sembri spendersi, se non accetta e non pratica la verità quando accade qualcosa, fa di testa sua e non segue i principi nel dovere. È una persona che prova disgusto per la verità e non cambierà anche se crede per molto tempo. È vero. Mia sorella, in apparenza, sembrava Pia una credente sincera. Leggeva la parola di Dio, ascoltava Inni, pregava, soffriva e pagava un prezzo nel dovere e sembrava una persona che perseguiva la verità. Ma in realtà non la accettava affatto. Era costantemente negligente e arbitraria nel suo dovere. Quando i fratelli le facevano notare i suoi problemi, controbatteva e discuteva sempre e non rifletteva mai su se stessa. Dopo anni di fede in Dio, la sua indole non era cambiata. Era una miscredente disgustata dalla verità. Sì. Sapeva sacrificarsi e pagare un prezzo, ma lo faceva in cambio della grazia e delle benedizioni di Dio. Se l'ambiente predisposto da Dio non le piaceva, protestava e si lamentava e diffondeva negatività e disturbava i fratelli. Era chiaro che non avesse la minima riverenza per Dio. Quando si spendeva per Dio, stava trattando con Lui e lo stava ingannando. Noi guardiamo l'apparenza. Qualcuno che sa soffrire e compiere buone azioni per noi è una brava persona. Dio invece guarda il cuore e l'essenza delle persone, nonché il loro atteggiamento verso la verità. Chi sa accettare la verità e quando affronta la potatura e il trattamento, sa riflettere su di sé, ottenere una vera conoscenza e un vero odio verso se stesso e sa pentirsi. È qualcuno che ama e persegue la verità e che Dio salverà. Se qualcuno ha una natura di disgusto per la verità e la sua indole non è cambiata dopo anni di fede in Dio, allora le sue buone azioni non sono altro che ipocrisia e finzione. Giusto. I farisei sembravano pi e compivano molte buone azioni, ma la loro natura era di disgusto e disprezzo verso la verità. Quando il Signore Gesù operò ed espresse la verità, gli si opposero e lo condannarono e alla fine lo inchiodarono alla croce e per questo furono maledetti e puniti da Dio. Sì. Ho capito che senza la verità, siamo ignoranti, non riusciamo a vedere chiaramente l'essenza delle persone e non capiamo che tipo di persone piaccia a Dio o quali Egli salvi. Non capivo il perché dell'isolamento di mia sorella. Pensavo che la leader non avesse indagato che fosse in errore. Solo applicando la parola di Dio, ho visto con chiarezza che l'isolamento dovuto alle sue azioni era in linea con i principi. Non era stato un errore. Certo. In quel momento ho provato grande sollievo. Lode a Dio. La gente va valutata con la parola di Dio. In seguito, ho riflettuto. Quando ho saputo che mia sorella era stata isolata, pur sapendo che dovevo accettarlo da Dio e che Dio è giusto, avevo ancora involontariamente molti timori e preoccupazioni. Come l'aver creduto in Dio per poco tempo e non aver svolto bene il dovere. Dunque sarei stata espulsa e scacciata. Ho frainteso Dio e ho diffidato di Lui. Ma sapevo anche che c'erano degli insegnamenti da trarre. Così l'ho pregato di guidarmi a comprendere la Sua volontà. Poi, in una riunione, ho letto queste parole di Dio. Dio dice, Se volete essere perfezionati da Dio, dovete imparare come fare esperienza e ad ottenere l'illuminazione in tutto ciò che vi capita. Buono o cattivo che sia, dovrebbe recarti beneficio. E non renderti negativo. Dovresti riuscire a considerare qualsiasi cosa stando dalla parte di Dio e non analizzarla o studiarla dal punto di vista dell'uomo. Se questo è il modo di affrontare l'esperienza, allora il tuo cuore sarà colmo dei fardelli della tua vita. Vivrai sempre alla luce del volto di Dio e devierai poco nella tua pratica. Persone siffatte hanno un brillante futuro. Io decido la destinazione di ciascuna persona, non in base all'età, all'anzianità, alla quantità di sofferenza. Nemmeno che meno decido in base al grado in cui suscita compassione. Ma in base al fatto che possieda la verità, non c'è altro criterio di scelta che questo. Dovete rendervi conto che anche tutti coloro che non fanno la volontà di Dio saranno puniti. Questo è un dato di fatto immutabile. Pertanto, tutti coloro che vengono puniti sono puniti in tal modo a motivo della giustizia di Dio e come retribuzione delle loro numerose azioni malvagie. Amen. Dalla parola di Dio ho capito che la Sua volontà era che acquisissi discernimento dalla storia di mia sorella, valutando secondo la parola di Dio e capendo chi Gli piace e chi Egli odia. Sì. Quando ho saputo dell'isolamento della sorella, ho avuto incomprensioni e dubbi e ho vissuto nella negatività e nella debolezza. Temevo, poiché credevo da poco in Dio e non avevo sofferto né pagato un prezzo come lei, di poter essere scacciata anch'io. Ora ho capito che Dio non determina la fine delle persone in base a quanto tempo credano o a quanto soffrano, ma vede se attraverso la loro fede in Dio sappiano acquisire la verità e imparare a obbedirgli e ad adorarlo. Il punto è che non importa quanti anni qualcuno lavori o quanto rinunci, si spenda e paghi un prezzo. Se non acquisisce la verità e la sua indole corrotta non cambia, alla fine non sarà salvato. Se compie molte azioni malvagie, non si pente mai, verrà punito da Dio. È la giustizia di Dio. Sì. Paolo operò per molti anni e soffrì molto, conquistò tante persone predicando il Vangelo e fondò molte chiese, ma la sua indole di vita non cambiò minimamente. Divenne sempre più arrogante. Alla fine dichiarò apertamente di vivere come Cristo e fu condannato e punito da Dio. Esatto. Paolo è il classico esempio di come il semplice entusiasmo, la rinuncia e lo spendersi non siano sufficienti nella nostra fede. Conta perseguire la verità e ottenere un cambiamento di indole. Questo determina se le persone possano essere salvate. La casa di Dio fa il lavoro di purificazione e manda certi in isolamento a riflettere per evitare che compino il male e intralcino la Chiesa. È una protezione per loro e va anche a beneficio del lavoro della Chiesa. Giusto. Ma il loro esito finale dipende solo dalla loro natura ed essenza, dal fatto che perseguono la verità e dal loro cammino. Se quando falliscono e cadono, le persone sanno riflettere su se stesse e pentirsi, Dio potrà ancora salvarle. Se rimangono impenitenti, con un'indole corrotta, compiono il male, o diventano negative e si oppongono, allora sono autentici miscredenti e malfattori. Vengono smascherate e scacciate e non sono salvate da Dio. Esatto. Dio ha dei principi per decidere chi salvare. Ero diffidente e avevo incomprensioni su Dio perché non conoscevo i principi con cui Egli valuta le persone, non conoscevo la Sua indole giusta e mi concentravo troppo sul mio destino. Grazie all'isolamento di mia sorella, ho capito in parte l'indole giusta di Dio. E ho visto che per quanto le persone sembrino soffrire, se non accettano mai la verità, non la praticano e non svolgono il loro dovere, secondo i principi, alla fine non saranno salvate e verranno smascherate e scacciate da Dio. È vero. La purificazione della Chiesa è stata inoltre un monito che mi ha permesso di riflettere e di pentirmi in tempo, di evitare la strada del fallimento, di concentrarmi sulla verità e di compiere il mio dovere secondo i principi. Lode a Dio. La Tua esperienza è davvero concreta e mi è di grande aiuto. Sia lodato Dio.